Musica Bentornati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì buone notizie perché piano piano la situazione meteo tende a migliorare un po' in tutta Italia a iniziare dal nord e dal versante tirenico però attenzione perché in giornata ancora qualche pioggia nelle regioni meridionali peninsulari la potremo avere tra poco entreremo nel dettaglio un'occhiata per il momento alle temperature valori minimi pressoché stazionari o indieve calo al nord grazie al miglioramento del tempo ma sono le massime sicuramente più interessanti perché con il ritorno del sole raggiungeremo valori particolarmente miti al nord con punte vicine ai 20 gradi poi nel weekend comunque temperature più alte anche al centro-sud ma ora entriamo nel dettaglio della previsione al nord netto miglioramento sarà una bella giornata un po' dappertutto qualche residuo a nuvolamento all'estremo nord-est ma senza particolari conseguenze nell'Italia centrale invece al mattino avremo ancora qualche piovasco sul versante adriatico e lungo la dorsale appenninica ma poi col passare delle ore situazioni in netto miglioramento infine per il sud Italia vi segnalo già il ritorno di ampie schiarite sin dal mattino in Sardegna piano piano il tempo migliora anche in Sicilia dalle altre parti invece ancora la possibilità di qualche piovasco ma poi verso sera smette di piovere dappertutto e come vi dicevo nel weekend netto miglioramento con questo è tutto aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com